buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale proseguiamo con il nostro esercizio barra tutorial per la realizzazione del nostro bel motore facciamo un passo indietro abbiamo fatto tre particolari facili volevo modificarli e ne apro uno perché non ho sistemato quella che se voi andate a vedere nelle tavole che potete scaricare col link in descrizione il colore quindi le proprietà dell'oggetto i tre oggetti fatti nel tutorial precedenti hanno una sorta di colorazione dorata per fare questo basta in parte premere il tasto destro del mouse sopra la forma che noi vogliamo andare a modificare e cambiarne l'aspetto ci sono dei materiali prestabiliti come loro per esempio automaticamente da un colore della forma un po ramato e nel chiudere vedete che non è proprio un oro spettacolare però dipende un po da come lo si guarda eccoci ovviamente c'è il gioco delle delle luci quindi questa era una cosa che ci tenevo a farvi vedere dopo di che lo salvo e faccio la stessa cosa per gli altri due particolari sempre in aspetto noi possiamo modificarne anche la trasparenza e questo può essere utile per quanto riguarda gli assiemi vedete se io ho un assieme e dietro un corpo un altro corpo e vorrei che almeno si intraveda è utile poter utilizzare l'effetto trasparenza che è anche piacevole a vedere in certe situazioni ovviamente col tasto destro in aspetto portando la trasparenza a zero si ritorna come eravamo prima risalviamo chiudiamo e andiamo a vedere una piccola chicca invece della versione 0 19 se io vado ad aprire la versione un file con la versione 0 19 eccolo qua quando faccio un insieme magari complesso io ho uno strumento che è molto carino visualizza rotazione oggetti con questo strumento io posso e serve per fare un filmato ok modificare modificare effettuare una sorta di rotazione dell'oggetto e permettermi di visualizzarlo a 360 gradi chiudi mette la vista isometrica altra chicca invece che anche free cad 0 18 lo troviamo in visualizza piano di taglio qualora voi vogliate invertita effettuare una vista in sezione col piano di taglio lo si può fare vedete ed è interessante anche questo queste sono piccole chicche questo è un video velocissimo ci tenevo a mostrarvi queste piccole sottigliezze quindi in questo video vi ho fatto vedere qualche chicca quindi chiudo e vi aspetto all'esecuzione dei prossimi elementi della sezione facile 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 grazie per essere stati con me e alla prossima